Potrebbero costare fino a dieci anni di carcere a Carlos Ghosn, presidente di Nissan, le accuse di irregolarità finanziarie mossegli dalle autorità giapponesi. Al top manager arrestato viene contestata la violazione delle leggi fiscali in relazione alla denuncia dei compensi ricevuti. Da Parigi intanto arrivano chiare indicazioni sul fatto che anche Renault, pur non avendo accuse da muovere al suo numero uno, si appresterebbe ad interrompere il rapporto col manager ben prima della scadenza naturale del contratto prevista per maggio 2019. Così, prima ancora di trovare conferma giudiziaria, le accuse che pendono sulla testa di Ghosn hanno già cominciato a produrre conseguenze su molti livelli, dal calo generalizzato del titolo nelle principali borse all'offuscata immagine della compagnia. Quando sento Nissan penso a una compagnia a orgoglio del Giappone. Anche noi guidiamo auto Nissan e come i vertici della compagnia dovremmo evitare comportamenti irresponsabili. Come giapponese trovo tutto ciò imbarazzante. A sollevare scandalo, oltre alle accuse in sé, anche l'enorme sproporzione tra il trattamento economico dei super manager come Ghosn e le difficoltà salariali di molti operai. Se si tiene conto di quanto guadagna Ghosn, più di 15 milioni di euro, per i lavoratori di Renault e Nissan è sorprendente vedere che non ne ha mai abbastanza e se sono vere le accuse prova perfino a frodare il fisco giapponese. Per il ministro francese dell'economia, Lemaire, Ghosn non è in condizioni di guidare il gruppo, ma non ha accuse a suo carico in Francia. Non posso scendere nei dettagli perché si tratta di dati protetti dal segreto fiscale, posso solo confermare che non c'è nulla che porti in particolare al signor Carlos Ghosn rispetto alla sua situazione fiscale in Francia. L'indomani dell'arresto di Ghosn, il gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi è al lavoro per cercare un successore. Il consiglio d'amministrazione del gruppo si riunisce a Boulogne-Bilancourt, nella periferia parigina, per cercare il profilo necessario alla guida di questa complessa alleanza industriale. Ma il compito si annuncia non facile, in effetti le due parti, francese e giapponese, hanno su alcuni punti interessi divergenti e nella vicenda il governo francese vuole dire la sua. Considerato fino a ieri come il salvatore di Renault, Carlos Ghosn rischia ora di trascorrere dieci anni in una prigione giapponese.